Polarovoro anche tecnico per Only Watch 2023 da parte della Rinata Gérald Gentà. Via con la sigla. Buongiorno e ben ritrovati in questo nuovo video. Non sono passate molte settimane da quando il gruppo LVMH ha deciso di rilanciare il marchio Gérald Gentà con l'assenso della vedova Gentà. Voi sapete che Gérald Gentà oltre che essere stato un grande designer di orologi per conto terzi dal 1973 produceva orologi sotto il suo nome anche. Ed erano orologi originali nell'estetica anche se meno emblematici di alcuni di quelli fatti per i brand terzi ma soprattutto con grandi complicazioni. E appunto Louis Vuitton, la Fabrique du Temps, perché Louis Vuitton ha comprato la Fabrique du Temps di Barbasini, hanno deciso di ridare vita a Gérald Gentà e per Only Watch presentano per la prima volta un orologio da cui forse non è detto che deriverà proprio una versione di serie anche se è possibile, ma che certamente indica la direzione verso cui la rinascita del marchio Gérald Gentà vuole andare, che è poi una direzione ripresa dal passato per stile e per tecnica anche se con un calibro tutto nuovo fatto appunto dai bravissimi della Fabrique du Temps. Quindi andiamo a vedere di cosa si tratta. Eccolo qui, cassa ottagonale in oro bianco nella più pura tradizione di Gérald Gentà, come anche le complicazioni perché abbiamo il Mickey Mouse, tra l'altro ricorrono quest'anno il centenario del personaggio di Topolino, oltre che i 50 anni dal primo orologio a firma Gérald Gentà. Abbiamo un orologio a ore saltanti con minuti retrogradi e che combina una ripetizione minuti. A ore tre abbiamo la corona normale, a ore nove abbiamo il tasto per attivare la ripetizione minuti. Qui state vedendo il calibro che è ancora in corso di affinamento, vedete il regolatore centrifugo, quindi silenzioso della suoneria, e il quadrante è in smalto champelvet, quindi prima vengono scavate le parti e poi dopo vengono riempiti questi cavi con queste cavità con la polvere di smalto che poi fa più passaggi al forno ad oltre 800 gradi. Da notare sono anche le dimensioni contenute di questo orologio perché il diametro è 40 mm e 11 è lo spessore. Si tratta di uno splendido orologio di altissima orologeria di cui sappiamo la Fabrique du Tomp, che ricordo è dietro anche molti calibri e molti orologi di calibri, volevo dire, di Laurent Ferrier. Dicevo, la Fabrique du Tomp di proprietà di Bulgari ha realizzato una ripetizione minuti con ore saltanti e minuti retrogradi, che non è una banalità sul piano tecnico e sono rari gli orologi con questa complicazione. Praticamente l'unica altra casa che è stata specialista dagli anni 30 del secolo scorso di questa combinazione è Ode Malpighè. Perché? Perché naturalmente se abbiamo le ore saltanti è chiaro che ci deve essere una sincronizzazione perfetta con il movimento delle camme e dei rastrelli di ore, quarti e minuti e non è una cosa facile da ottenere. È una complicazione notevolissima. Cioè bisogna che proprio quando scatta l'ora la suoneria ne tenga conto immediatamente. Quindi è difficile da realizzare. Ne deriverà una versione di serie? Non si sa. Ma certo indica una direzione di Gerard Gentà che è poi quella molto fedele del passato. Perché Gerard Gentà faceva appunto grandi complicazioni che tra l'altro ancora oggi si trovano sul mercato del secondo polso a prezzi che sono già aumentati rispetto a un tempo. Un tempo addirittura, un tempo, dieci anni fa, c'erano calendari perpetui di Gerard Gentà in oro a 7.000 euro, 8.000 euro. Erano da prendere subito. Ma naturalmente allora non si parlava così come oggi di Gerard Gentà e non li voleva nessuno. E io tra l'altro ho sempre molto apprezzato il design anche originale di queste casse. Quindi complimenti a LVMH, al maggior gruppo del lusso del mondo, cioè quello di Bernard Arnault, per aver deciso questo rilancio in cui credo abbia parte anche molto il figlio Jean Arnault. Vi ringrazio, vi saluto, mettete like se vi è piaciuto e al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!